Musica Musica Premier mystère lumineux, le baptême du Seigneur. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai enjeu envers. Avec Marie et Bernadette, prions pour les baptisés. Prions pour toutes nos intentions. Primo mystère luminoso, il baptise mon exceso. Allora Gesù dalla Carrilea venne aggiornato da Giovanni per farsi baptizzare da lui. Ed ecco la voce dal cielo che diceva, Questi è il figlio mio amato, il mio figlio.